Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione web della città, prima settimana di ottobre che si conclude all'insegna del sole e del vento qui a Torino, tra poco vedremo la situazione prevista per la giornata e per il weekend, cominciamo come sempre con le notizie di viabilità, soprattutto questa mattina la prima che vi raccontiamo è quella di un corteo, un corteo studentesco che si sta già muovendo in questi minuti, la piazza Arbarello per via Cernaia, poi raggiungerà via Pietromicca, piazza Castello, via poi si fermerà in via Santo Ottavio davanti all'università, corteo che come detto è in movimento proprio in questi istanti, lo sentiamo dal nostro studio di registrazione e che si ripeterà anche nella giornata di domani, secondo le stesse modalità. Vi segnaliamo poi anche a partire dalle 13.30, quest'oggi un presidio anarchico davanti al CPT, anzi al CIE, di Corso Brunelleschi, due divieti di transito anche in città quest'oggi, il primo fino alle ore 18 in via Sant'Anselmo, nel tratto tra via Galliari e via San Pio V e il secondo che vi segnaliamo invece fino alle 19 in via Vigore nel quartiere San Paolo, tra via Di Nanni e via Cesana. Le postazioni degli autovelox per la giornata di oggi, Corso Giulio Cesare, Corso Grosseto, Corso Vercelli, Corso Francia, strada dell'aeroporto, via Santa Maria Mazzarello e via San Sovino. Per quanto riguarda invece la situazione del tempo, vi dicevo che questa mattina abbiamo ancora sole in città, ancora bel tempo, le temperature però sono un po' scese, siamo intorno ai 21 gradi per la temperatura dell'aria, ma la percepita è abbastanza più bassa, siamo di poco sopra i 18 gradi per via di questo vento, un vento che espira da nord-est in raffiche intorno ai 30-40 km orari nei momenti di picco che abbiamo registrato nell'ultima ora, l'umidità è ovviamente con questo vento molto bassa, siamo sotto il 20%, questo vento ci porterà un po' di nubi a partire dal pomeriggio, a partire dalle 16, un abbassamento delle temperature che oggi saranno per i valori massimi intorno ai 20 gradi circa. Dando uno sguardo al weekend, nella giornata di sabato avremo una situazione mista di sole e nuvole lungo tutto l'arco della giornata, con minime che nella notte tra oggi e domani scenderanno di parecchio perché si arriverà a valori intorno ai 6-7 gradi, quindi sarà una notte decisamente fresca per questo periodo e dopodiché per la giornata di domenica invece dobbiamo attenderci anche qui delle nubi nel pomeriggio con valori massimi delle temperature intorno ai 19 gradi circa, quindi rispetto allo scorso weekend le temperature si sono abbassate decisamente. Vediamo adesso le notizie di Torino Click, l'agenzia quotidiana della città che trovate in formato pdf sulla nostra home page, la prima notizia riguarda un matrimonio che si farà nell'area dell'ex centrale Enel di via Bologna, un matrimonio tra due privati, questa è stata la caratteristica sottolineata anche dal Vice Sindaco di Alessandri, un accordo di collaborazione tra due soggetti privati per riqualificare una parte, uno stabile storico della città e riportarlo con ricadute socio economiche ovviamente sul territorio, riportarlo alla fruizione da parte della popolazione. Nello specifico nella centrale Enel di via Bologna verrà istituito il centro direzionale Lavazza, Lavazza ha scelto poi di stringere un accordo con l'OIAD, l'Istituto di Arte Applicata e Design che occuperà parte dello stabile a partire dal 2013-2014. L'altra notizia invece riguarda un progetto di scuola ecosostenibile, un progetto figlio di un workshop, è il risultato finale, viene presentato questa mattina alle 13 al Parco Michelotti, si tratta di una struttura didattica ecosostenibile pensata per i territori palestinesi per la striscia di Gaza ma realizzata proprio qui a Torino, alle 13 verrà presentata come detto all'ex zoo del Parco Michelotti. Spostiamoci adesso sulla nostra home page, andiamo a vedere la notizia scelta questa mattina per voi tra quelle che sono pubblicate in prima pagina, si tratta degli omaggi di Informa Giovani, quest'oggi a partire dalle 15 saranno messi in palio 10 abbonamenti musei per il prossimo anno, trovate tutte le informazioni per partecipare a partire dalla notizia, ricordatevi di essere puntuali nel rispondere alla domanda alle ore 15 sul sito di Torino Giovani. Adesso vediamo la situazione del traffico live con le telecamere del Consorzio 5T, traffico abbastanza intenso su Corso Moncalieri come vedete sia in direzione sud che in direzione nord. Spostiamoci al Ponte Sassi dove tutto invece è tranquillo, lo vedete dalla sede stradale Sgombra e Libera. Questa è la situazione al piazzale Costantino il Grande in direzione di Corso Galileo Ferraris dove invece non ci sono assolutamente problemi e ci spostiamo poi infine in Corso Vittorio, angolo Corso Massimo. Qui abbiamo un po' di traffico soprattutto in direzione del sottopasso di Corso Massimo. Bene, è tutto per questa mattina, grazie per averci seguito, grazie a Paolo Mosso per la messa in onda, a me non resta che augurarvi una buona giornata e un felice weekend.